Rosalinda cannavò qualche giorno fa in una diretta Instagram con Andrea Zenga e i loro fan aveva raccontato anche che i rumors circa lo star cercando casa sono veri, ma che la cosa non implica una separazione da Andrea Zenga, anzi i due si alterneranno. A tal proposito Rosalinda aveva precisato, sposterò tutte le mie cose in una nuova casa, e un po' faremo qui un po' faremo nella nuova casa, questo non significa che io e Andrea ci separeremo. Rosalinda aveva voluto fare questa precisazione per evitare che si speculasse sulla loro possibile separazione a causa del trasloco. Ebbene sembra che il trasloco sia iniziato, Rosalinda proprio ieri ha pubblicato una stories in cui è circondata da scatoloni e valigie. Mentre oggi in macchina con Andrea Zenga ha annunciato che lui la sta accompagnato a fare il trasloco. Ecco il video. Ragazze io sto andando a continuare il trasloco e ovviamente sembro, non lo so, una pazza. Insomma come mi sono vestita stamattina è che ho accanto Andrea Zenga, che devo andare al lavoro vestito tutto bene. Io mi vergogno. Mi si aggiora.